11 gennaio 2019 caro alberto questa maglia è uno dei simboli del mitico campionato del mondo di spagna 82 l'impresa che abbiamo compiuto ha rappresentato la rinascita dell'italia intera mi auguro che questo piccolo contributo possa servire a restituire e ridare linfa vitale a una zona colpita dalla furia della natura un forte abbraccio dal vostro paolo rossi